Bella! Nell'ultima puntata di Andrea Alcubo, il format che co-co-conduco con Andrea Chi e Andrea Bizarro, avrei dovuto come al solito affrontare la cover di un ospite che avevamo avuto in trasmissione nella puntata precedente, ma nella puntata precedente, fra Sara Sol Cantamessa e Francesco Balasso non sono riuscito a decidermi perché entrambi avevano dei brani molto belli e coverizzabili. Fra l'altro i brani che ho scelto trattano lo stesso argomento, forse da due punti di vista diversi sicuramente, anzi uno potrebbe essere la risposta dell'altro e quindi ho visto bene di mashapparli assieme. Quando affronto la cover di un cantautore, specialmente se lo conosco, finisco per empatizzare con lui e in questo caso mi sono trovato a dovermi confrontare con tre soggetti diversi, i due artisti e il protagonista di una delle due canzoni. E quindi è stata un'esperienza totale che mi sento a questo punto dedicare a Sara, a Chiara e a Sam e agli origami che ci stanno sempre. Grazie a tutti! 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 Con te un foglio prende senso anche le immagini del vento in questo appartamento Cerca il vento! Cerca il senso, trova il centro, ripartirai, ripartirai col fiato volento in questo appartamento. Aspettavo in questo appartamento. Aspettavo in stazione da un po' guardavo chi in fretta correva ai binari, rendendomi conto che anch'io sto sempre correndo pensando al domani. Poi è arrivato quel treno e tu da dietro quel vetro già mi sorridevi. Ho pensato che semplicemente è arrivato quel treno e tu da dietro il tempo con uno rigamo. Ora stesi sul tappeto ci prendiamo in un abbraccio. Adesso tutto è perfetto in questo appartamento. Cerca il senso, trova il centro, ripartirai, ripartirai col fiato volento in questo appartamento. Come un foglio di carta mi hai preso tra le tue mani. Tu mi hai dato una forma come ai tuoi origami. Siamo in dura, siamo in silenzio ed è la cosa più bella del mondo. Te l'ho già detto, forse mi ripeto. Ma contesto meglio in questo appartamento. Cerca il senso, trova il centro, ripartirai, ripartirai col fiato lento. Contesto meglio in questo appartamento. 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 Contesto meglio in questo appartamento.